Buonasera, siamo qua con gli artisti più cool del panorama nazionale dell'arte contemporanea. Per il settembre, l'amico Alberto Ballero. Alberto Balletti! Panorama con l'automobile. C'eravamo ripromessi di mettere a fuoco tutto lo scenario underground, caviaritano. Non ha grande visibilità attraverso l'operato uniti neve work in progress del maestro Alberto Balletti. Per anni mio padre andava in giro nelle città e si rifiutava di fotografare le macchine. Siccome è pieno di macchine, i reportage delle sue città erano tutte dal primo piano in su. Non hai mai un mandato reale, un uomo, una cosa. Tutte le città le fotografate così. Le camera interna, a circuito interno. Se arrivi a settembre, i video è finiti. Pierpaolo Mameli al 140 di Via Lammare. Marina, la moglie! I tempi sono stati molto stretti, ma mia moglie che mi ha seguito. Stasera, molle! Eccoci. E abbiamo un carto con Mario. Periodo degli occhi. Porta chiusa con l'ivieto di parcheggio. Pascio con baffi. Con baffi. Periodo colorato. Simon dal Canada, che veniva tutti i giorni qua. Poi prima di partire ci li ha regalati. Piacciano a Simon, prima di partire. Simon Huck. E piacciono, li hai fatti vero con tutti. Italo Carruggio, nel locale di Basilo. Nicola Nivola, tra due colonne. Costantino. Era Costantino. Costantino Nicola. Costantino Nivola. Costantino Nivola. Costantino Nivola. Tango in regione. Tango in regione, versione lato ovest. Stai a... Al Dulce Caffè. La pittura, che pensi? Bellissimo numero. Bellissimo. Ristorante Liliku, un'opera del maestro Sorrentino. Speriamo sempre molto amore. Sì, sì, no, ma io non sono un cantante. Ah, Santa Lucia. By Night. Chi è che ti ha coperto? Cazzo, ma questo è il polo. Il titolo. Il titolo. Allora. Contraffazione grafitara. Lui è Poledog. Noto, Poledog. Noto e così. Con la moglie. Questo Luce è in procinto di andare a New York. Viene, grazie. Caglioni risponde. Grazie. Alberto Pelle di San Brangelo Cagliere. E Alberto Pelle. Liliko de Candia Cagliere. E tra le tante cose è un'affermatissima videomaker che ha partecipato anche a Giussoni Film Festival. La moglie del professore di Venezia. Quindi siamo qua in un tour portato, ma efficace. Condotto dal professore De Caterino. Domenico Mimmo De Caterino. Che a proposito dell'arte abbiamo... Tu sei Alberto Palletti. Buonasera. Ti conosco, sei molto famoso. Ti ho visto i video lì nella televisione. Grazie. E che devo dire... Facciamo un altro video domani. Un altro esperto. E che stiamo lì in molto favore. Certo. No, no, no. Hai pronto, signor? Stiamo cercando un workshop a breve, eh? Sì, certo. Stiamo cercando un atelier dove poter riunire molta gente perché abbiamo contattato molta gente. Molta gente. Abbiamo avuto delle risposte forti dalla città. Sotto una forma che poi decodificheremo in un secondo momento perché è una ricerca in itinere, come abbiamo detto, troverai il suo culmine il giorno in cui io sposerò la mia compagna che ha le riprese, che è Barbara Ardau. Alberto Balletti. Anche io sempre lato, sono già conosciuto da Alberto, anche su Amulio. La moglie, la moglie. Anche io sempre lato, anche su Amulio.